Roma c'è anche Francesco Totti all'evento Frecciosa alla stazione Termini in vista della finale di Coppa Italiana tra Inter e Fiorentina. Una partita per la quale l'ex Capitano Roma ha una preferenza particolare e due squadre sono affrontate per arrivare alla fine, che stanno fisicamente bene, hanno altri finali e ci arrivano con la testa giusta. Mi aspetto un bel gioco. In una partita asciutta può succedere tutto, tra i due il favorito dovrebbe essere Tra, ma sarebbe felice se la Fiorentina vincesse. Forse forse.l Inter può quindi recuperare in Champions League, sarebbe bello. L'evento è anche un'opportunità per commentare nuova classifica dopo la penalità di 10 punti inflitti alla Juventus dopo sentenza della scorsa notte. Tutto lo scenario è cambiato, tutto il discorso dei campioni riapre e ora negli ultimi due giorni di campionato. Vedremo chi sarà in grado di raggiungere questo prestigioso obiettivo.